Visita a Teramo di Corrado Gisonni, commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema Gran Sasso. Gisonni ha prima incontrato il sindaco Gianguido d'Alberto e l'onorevole Fabio Berardini e si è poi recato nella sede della Ruzzoreti. Al commissario tutti hanno chiesto interventi rapidi e risolutivi sulla questione dei 100 litri di acqua persi al secondo nel punto di captazione sotto i laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso a causa della mancata messa in sicurezza dell'acquifero. Io sono fiducioso nel fatto che a breve anche quella risorsa potrà essere recuperata, ma non bisogna dimenticare che la risorsa idrica che proviene dal Gran Sasso è comunque un elemento prezioso che fino ad oggi, da circa 20 anni a questa parte, ha dissetato metà della popolazione abruzzese. Quello che va assolutamente salvaguardato è il sistema di prelievo della risorsa idrica, non bisogna fare confusione fra questi due sistemi. Il sistema acquifero ha di per sé delle clausole di sicurezza, delle dispositivi di sicurezza naturali, al proprio interno è un acquifero in forte pressione. Diversa situazione invece per le sosture di raccolta e approvvigionamento idrico che devono essere opportunamente indagate e oggetto degli interventi di messa in sicurezza. Purtroppo l'idea che deve essere un progetto, quindi non può essere un'azione fantasiosa, ma deve essere un'azione concreta, non potrà che scaturire dal completamento delle indagini conoscitive. Non possiamo pensare di mettere un paziente sul tavolo operatorio senza avere chiaro il quadro di diagnosi del paziente su cui dobbiamo intervenire. Il sindaco D'Alberto in particolare ha chiesto al commissario Gisonni di incontrare il prima possibile i sindaci del territorio allo scopo di rendere più fattive le attività di comunicazione e informazione.